Dopo i tagli temuti e annunciati tra le righe, il taglio effettivo dei fondi regionali per l'Axilella non ci sarà. Sull'Axilella non c'è alcun taglio di fondi nel bilancio regionale, lo ha detto il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenendo ieri in Consiglio regionale a conclusione della discussione generale del bilancio. Abbiamo implementato le risorse del Dipartimento dell'Agricoltura perché abbiamo stanziato 7 milioni di euro sull'Axilella per la prevenzione e il controllo che per noi costituisce una priorità. L'assessore del bilancio Raffaele Piemontese dichiara, con l'assessore all'Agricoltura e il Presidente della Regione abbiamo mantenuto questa somma perché la riteniamo rilevante. Intanto a Roma il Governo sta avagliando un piano per superare l'emergenza e ieri si è appreso al Ministero delle Politiche Agricole, si è tenuto un incontro sul problema Axilella che dovrebbe aver riguardato anche le questioni legate al monitoraggio, alla definizione delle zone e alle buone pratiche agricole. Grazie. 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 Grazie.